Fermate il ladro! Fermo! Al ladro! Fermate il ladro! Fermatelo! Tu lo so, tu lo so! Un duplicato di tutte e tre e anche il telecomando. Va bene. Fai una copia di tutte, eh? Ma cosa non c'è? Posso pagare l'impatto, mi cerco un te... Aspetta, aspetta! Forse c'è una soluzione! Aiuto! Salita, presto! Ti senti male? Lo sto migliore. Alle Dezzi! Venite su a prendermi! Sono così contenta! Da sola non mi piace andare al cinema. Perché non ci andate con bambina? Beh, quella se non son cartoni si annoia. Forse ancora troppo piccola per vedere certe cose. Beh, domenica prossima compie quattro anni. Che ne diresti se le regalassi un libretto di risparmi? Soldi in banca fruttano niente. No, mica per quello! Io ogni mese ci verso tutto quel che riesco a mettere da parte. E così quando lei avrà diciotto anni si troverà il suo piccolo tesoro. Volete? Sì, grazie. E saprà lei come farlo fruttare. Scusate, che guaio. Mi è scappata. Scusate, mi dispiace. No, no, mamma. Non ti preoccupare. Non preoccuparti. Poi ci vorrà del tempo prima di quel giorno. Forse potrà trovarsi un vero capitale. Se è così mi pare proprio un bel regalo. Ti piacerà.